voglio dire che gesù ha detto che nessuno conosce il giorno e l'ora ovviamente del suo ritorno però ha detto anche dal fico imparate la parabola no quando spuntano i germogli quando mette le foglie voi sapete che che l'estate vicina quindi sicuramente noi possiamo e forse dobbiamo anzi dobbiamo interpretare i segni dei tempi e metterli in relazione con gli aspetti escatologici apocalittici assolutamente diciamo che c'è tutta una cabala una gematria una numerologia dietro a questi calcoli che è stata fatta rifatta da tanti studiosi in maniera anche molto approfondita addirittura un grandissimo rabbino cabalista qualche anno fa adesso è passato a miglior vita un grandissimo cabalista a livello internazionale era tra i più rinomati e per essere un cabalista tra i più rinomati vuol dire che tu sei diventato pazzo sui libri di cabala cioè hai studiato tutta la vita tutta la santa vita sui libri di cabala cioè che tu guardi una persona e soltanto guardandola sai quali sono i suoi numeri i suoi riferimenti angelici e tutto diventi un sapiente di quella scienza che è una scienza vera e propria perché poi si collega anche alla scienza astronomica alla scienza astrologica si collega alla scienza dell'anatomia sottile del corpo umano quindi le sefirot sia come processo evolutivo sia come plessi energetici del corpo umano del corpo energetico umano si collega anche alla fisiologia umana cioè la cabala è un mondo sconfinato bene questo grande rabbino aveva detto cosa che questo è il tempo del ritorno del messia lui ha detto dell'arrivo del messia perché per loro non è il ritorno è l'arrivo è la venuta del messia è la prima venuta del messia perché loro non pensano che gesù sia il messia però l'ha detto detto questo è il tempo viviamo negli anni in cui sta per arrivare il messia ha fatto dei calcoli pazzeschi ha detto di aprire questa lettera dopo la sua morte è stato questa cosa qua è stata fatta e è stato riconosciuto valido questo calcolo da tutti i cabalisti del mondo e quindi lui ha detto anche lui la verità cioè questo è il tempo della venuta del messia solo che si è dimenticato che è già arrivato e questo è il ritorno però comunque ha individuato il periodo anche lui non ha dato anche lui non ha dato date precise perché i calcoli temporali precisi non esistono per quanto riguarda i dinamismi spirituali che devono compiersi e manifestarsi nel regno della materia non esistono calcoli precisi perché lo spirito si muove su leggi diverse dalle nostre noi stessi lo stesso calcolo temporale che facciamo è convenzionale è una formalità l'orologio noi non obbediamo all'orologio l'orologio obbedisce a noi perché la realtà è tutta una proiezione del nostro stato mentale ed è una proiezione che viene dal regno spirituale che noi siamo lo spirito ed è lo spirito che governa la materia non viceversa quindi anche il tempo inteso come orologio ha senso fino ad un certo punto sono note in ambito scientifico e esperienziale documentato situazioni paradossali per quanto riguarda il tempo ad esempio che concentrandosi un gruppo di persone concentrandosi sulla meta di arrivo mentre viaggiano in macchina arrivano prima alla destinazione se si concentrano tutti insieme il viaggio deve durare quattro ore tutti insieme concentrati visualizzando insomma percependo quello che accadrà quando arriviamo eccetera invece che quattro ore può durare anche mezz'ora il viaggio e poi stai lì che batti l'orologio e diciamo ma che succede si è rotto l'orologio no non si è rotto l'orologio sei tu che hai fatto un salto perché la coscienza guida la realtà quindi per questo noi non possiamo assolutamente fare calcoli matematici precisi con la nostra matematica certo è che esiste una matematica di ordine superiore che abbraccia anche le leggi iperfisiche la realtà diciamo multidimensionale e allora lì ma quella si tratta di una matematica extraterrestre loro sicuramente qualche calcolo migliore dei nostri lo sanno fare noi possiamo individuare i periodi il periodo è questo